Nei suoi quadri c'è sempre qualcosa legato alla socialità, alle mani che si alzano perché qualcuno gli punta addosso qualcosa, al fatto che la disacrazione non è mai compresa, adesso mi viene in mente l'uomo con i fiori che è felice perché con i fiori passeggia saltella in mezzo alla strada. Conosciuto per il suo stile ironico, provocatorio e sovversivo, Baschi ha conquistato un posto di rilievo nel panorama artistico contemporaneo diventando un simbolo della street art. Alcune delle sue creazioni sono addirittura diventate vere e proprie icone. Perché lui poi dipinge quando ne ha voglia, quando si sente ispirazione, non puoi metterlo in un posto chiuso con un cavalletto, mentre va per strada gli viene l'idea di fare qualcosa e si ferma e dipinge sul muro, dipinge su un cartellone in un storante, dipinge in una chiesa. Adesso cinque di queste sue opere originali, accompagnate da numerose litografie dell'artista, sono esposte a Cortona in una mostra promossa dall'associazione Castiglione del Cinema. Le opere sono cinque originali, più dieci serigrafie, che noi abbiamo avuto in gestione per un po' di tempo, da una proprietà privata, non direttamente da Banksy, perché lui le opere non le dà nessuno e non le vende, o le vende o le regala, realmente le regala quasi sempre. Poi diventano collezioni personali e private, le utilizziamo anche noi. Cortona perché, intanto perché la location era molto bella e mi è piaciuto subito, e poi perché fare una mostra di Banksy in una chiesa consacrata è una cosa quasi impossibile. Sarà possibile visitare la mostra dal titolo Banksy Forever negli spazi dell'auditorium chiesa di Sant'Agostino sino a domenica 21 luglio. Anche questa non è ufficiale, non è autorizzata, è autorizzata dal proprietario dei quadri, ma non da Banksy, assolutamente no. Noi però abbiamo tutte le manleve, tutti i documenti necessari perché questo si possa fare.